Ispettore, dall'inchiesta risulta che Miss Nichols aveva dato spettacolo con la sua ubriachezza quella notte. Pensi che Jacob le avesse ordinato di farlo? Un'esca, intendi? Non so più cosa pensare, Miss Fray. Jacob alloggiava qui vicino, nel cuore di questo Letamaio. Sta' attenta. Io non ti deluderò. Noi, non ti deluderò. Piano ora. Andiamo. Noi, non ti deluderò. Armi da intimidazione. Come quelle che ho imparato a usare dai fratelli indiani. Noi, non ti deluderò. Una lettera? Ottimo lavoro la notte scorsa. La signora non ha avuto il tempo di strillare. Non mi prenderanno. quanto mi piace. Ricomincerò subito. Presto sentirete parlare di me e dei miei giochietti. avevo tenuto da parte del sangue della signora in una bottiglia di birra per scrivere questa lettera. Ma è diventato denso come collo e non posso usare. quanto sangue. Spero non sia il tuo fratelli. L'ultima volta che io, Henry e Jacob eravamo insieme è stato in India. 15 anni fa. Quando scattammo la fotografia, eravamo davanti al tempio di Cali. E questo è uno dei ragazzi che Jacob ha fatto addestrare con la confraternita. Come lo chiamavano? Il piccolo Jack. Inquieto e spavaldo. Proprio come mio fratello. Altri segni? Cos'è che non vedo? Cali, la distruttrice. Te l'ho regalata quando sei venuto in India. C'è una donna che potrebbe aiutarci. Sventuratamente. Ti ricorderà la nostra vicina da piccoli. Sventuratamente. Che cosa vuoi dirmi, Jacob? Amavamo Nelly. Che si riferisca a una donna sventurata. Che Nelly si trovi al bordello vicino all'alloggio di Jacob. Inizierò da lì. Occhio aperti, gente. Questa bomba seminerà il panico fra loro. Speriamo che quest'Anelli sappia dove sei e mi conduca allo squartatore. Se l'ex allievo di Jacob è lo squartatore, vuol dire che è uno di noi. Lo devo fermare. E' un'altra cosa. È un'altra cosa. È un'altra cosa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Nelly, Lady O ti sta aspettando. Non ci vada. Lasciatemi. Devo trovare Nelly prima che le accada qualcosa Forza Ecco qui Forza Dove sono andate? Nelly è in grave pericolo Ecco la carrozza Meglio se rimani a distanza Vai scappandolo a me, ti conviene? E' un po' di più 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 Non voglio farti del male davanti a tante signoresi Toglimi le mani di danzo Zitta, abbassa la voce E così sono lieta di annunciare a tutti voi che ben presto potremo accogliere altre sventurate presso di noi Non aver paura La sorella di Jacob Non possiamo Ti prego, mi ucciderà Chi? Lady Owens Jacob ha detto che devi ucciderla per trovarlo Sorridete e siete gentili Odirò allo squartatore dove dormite, miei cari Miss Ray Prendetene lì e fate in modo che quella donna non ci segua Ma dov'è andata? Deve essere la carrozza che c'ero Ma? Più veloce! Muoviti! Sto scappando Ti spiace Ora basta Calma Questa non te la faccio passare Oh, galetta Sei a tanto così da metterti nei guadagli, hai capito? Questa sarà la tua ultima... Oh, schifala Mi prenderemo Questa è la mia Lady Owens Nellie, mi dispiace Mi ha usato come ischia ed è scappata a Owens, Mellor Lei sperava che io ti uccidessi Sapeva che saresti venuta Lady Owens è la spia dello scuartatore a Londra La ucciderò così Jack dovrà uscire allo scoperto Hey! Mi prenderò cura di te, Nellie, lo giuro Lady Owens mi stava aspettando E non voglio certo deluderla E non voglio certo deludio E non voglio certo deludio E non voglio certo deludio Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!